... Terremoto archiviazione per la società AirCop, per il giudice non ha pagato tangente. Terremoto archiviazione per la società AirCop, per il giudice non ha pagato tangente. Terremoto archiviazione per la società AirCop, per il giudice non ha pagato tangente. Terremoto archiviazione per la società AirCop, per il giudice non ha pagato tangente. Prontamente gli agenti della volante si sono posti al suo inseguimento, riuscendo ad indirizzare il mezzo verso una strada senza uscita. L'uomo, vistosi raggiunto, ha tentato di disfarsi di una busta gettandola dal finestrino dell'auto, ma gli agenti sono riusciti a recuperare l'involucro che conteneva ben 21 flaconi di metadone da 20 mg ciascuno e la somma contante di euro 360 in vari tagli. Tutto è stato sequestrato e dopo gli atti di reito, l'uomo, un 52enne aquilano, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'archiviazione dunque per la società AirCop, per il giudice Buccella, non ha pagato la tangente per caperrarsi la ricostruzione di beni architettonici e religiosi distrutti o lesionati dal terremoto del 6 aprile 2009. Quello che emerge dal decreto di archiviazione del GEP e del Tribunale dell'Aquila. L'inchiesta denominata Operazione Betradial, partita nel 2012, aveva portato nel 2014 all'arresto di 5 persone. Con altre 12 indagate per un presunto giro di corruzione falso, turba di vadasta, millantato credito, emissioni e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito della ricostruzione del patrimonio artistico e religioso dell'Aquila. L'inchiesta oltre ai dirigenti dell'azienda, anche funzionari e l'ex direttore dei beni culturali e pesagistici per l'Abruzzo. Il giudice per le indagini preliminari, Guendalina Buccella, ha colto la richiesta di archiviazione per 16 indagati del PM David Mancini perché il fatto non sussiste. Le elezioni amministrative sono ormai alle porte. Si vota da Vezzano, che nella Marsica costituisce il centro con il maggior numero di votanti, ma si vota anche a Trasacco, dove la campagna elettorale ha assunto toni non meno accesi di quelli registrati in altre località. E proprio a Trasacco abbiamo incontrato un personaggio che per anni ha sempre partecipato alla vita politica del paese, ma che questa volta ha preferito farsi da parte. Stiamo parlando di Roberto Salvi, consigliere d'assessore in alcune giunte comunali del passato, che in questa circostanza ha però deciso di restare alla finestra. I motivi ce li spiega lui stesso nell'intervista che stiamo per ascoltare. 62 anni, Trasaccano, doc in politica praticamente da sempre, soprattutto per le vicende del proprio paese. Parliamo di Trasacco, ma parliamo essenzialmente di Roberto Salvi, che in questa circostanza, per questa tornata elettorale, non si è presentato in nessuna lista. Lo ha fatto per lui la figlia, ma lui non si è voluto presentare. Che cosa ti ha spinto Roberto, lo incontriamo intanto a casa sua, che cosa ti ha spinto a non presentare il tuo nome questa volta direttamente? Premesso che nel 2012 decisi di non candidarmi, gli eventi poi verificatosi durante l'ultimo quinquennio, mi hanno spinto a fare una profonda riflessione sull'importanza dei miei legami con la politica, sulla fedeltà che ho sulla famiglia e per quanto riguarda anche le decisioni che, volendo o dolente, a una certa età bisogna anche dare spazio alle nuove generazioni. Quanto ha influito, secondo te, la tua carriera politica nella scelta di tua figlia Silvana? Mi rendo conto che possa sembrare un passaggio del testimone artefatto, ma mi piace ricordare che Silvana è la minore delle mie figlie e che se avessi voluto scegliere non avrei, certo, esposto la più piccola, perché la più piccola è sempre l'ultima... La meno esperta. La verità è che forse la mia passione politica è stata ereditata da Silvana e quindi io non ho fatto né, l'ho influenzata a prendere questa decisione. Dissuaderla è difficile conoscendo il carattere di mia figlia e quindi farla desistere dai suoi intendi, insomma, ne so qualcosa, perché è una ragazza abbastanza decisa. Roberto, cinque anni fa ti sei candidato con Mario Quaglieri, l'attuare sindaco, quindi facevi parte della sua coalizione. Adesso stai praticamente all'opposizione. Che cosa è successo? Che cosa ti ha spinto a passare dall'altra parte della barricata? Beh, come ho accennato nella precedente risposta, esistono dei valori che per me sono imprescindibili e tra questi rientra la fedeltà e il mantenimento degli impegni presi. Oggi mi trovo costretto ad ammettere un errore di valutazione nei confronti di quello che sembrava essere un ragazzo promettente, ma che presto, secondo me, si è rivelato totalmente inadeguato rispetto allo spirito di lealtà che era il cemento del mio sodalizio con il dottor Gino Fosca. Senti Roberto, secondo te, le doti che dovrebbe avere oggi un sindaco, quali potrebbero o dovrebbero essere? Beh, le doti che deve avere oggi il sindaco è quello di avere un rapporto di lealtà prima di tutto con i cittadini. Un rapporto leale, fatto di parole e mantenute, impegni costanti, presenza nel territorio e anche nello stesso palazzo comunale, intervenire per quelli che sono le problematiche giovanili. E su questo voglio dire, ma noi parliamo di giovani. Oggi, tra sacco, molti giovani non possono uscire perché non possono permettersi di andare al bar, comprarsi le sigarette, andare a pagarsi gli aperitivi e quindi si vergognano anche nei loro coetanei e quindi diventano una piaga sociale da intervenire. Ma da intervenire seriamente, perché molti giovani non si possono permettere nemmeno di uscire. Non ci dobbiamo preoccupare soltanto dei figli di papà che hanno la possibilità di andare al bar, di comprarsi la macchina e di andarsi a divertire. Ci dobbiamo preoccupare di quelle persone che oggi come oggi rimangono a casa, costretti a non uscire perché si vergognano nei confronti dei loro coetanei. E allora, secondo te, quale sarà il trasacco del futuro? Aiutare i giovani, creare progetti che aiutano i giovani, cercarli di farli uscire, individuare queste persone, intervenire con incentivi economici, distribuire le risorse economiche più adeguate possibili. Io un'idea ce l'avrei, un'idea ce l'avrei. L'idea è quella di distribuire al meglio le risorse economiche provenienti dallo staff del sindaco. Noi oggi abbiamo al sindaco lo staff che costa, da quello che ho visto io all'ultimo bilancio, 20.000 euro l'ordine al mese. 20.000 euro l'ordine al mese. Sarebbero 24.000 euro l'anno. Ma noi ci rendiamo conto che se vince Mare Gualieri, noi abbiamo 100 per 5 anni, 20.000 per 2, 120.000 euro, mi sembra. 120.000 euro l'anno da dare a una persona. Facciamo in modo che quei soldi, con un altro contributo in più, che il Comune potrebbe trovare tramite, così come ha fatto io a Gino Fosca, tramite la rinuncia dell'indennità in percentuale. Quindi creare un bustolotto per fare in modo che alla fine dell'anno quei giovani, se non ci sono i soldi per fare dei progetti, perché per fare dei progetti ci vogliono i soldi, però fare in modo che alla fine dell'anno quando Renzi dava 80 euro alle famiglie, noi abbiamo la possibilità, con 120.000 euro, di accontentare i giovani sotto Natale, sotto Pasqua o durante le feste che non... Allora, cominciamo a pensare a questo. Non pensiamo soltanto all'egoismo personale o chi non fa parte di quel cono di luce del sindaco sta fuori da tutti i benefici. Adesso Roberto ha in mano dei fogli che riguardano appunto il Comune di Trasacco. In una data non molto vecchia c'è stata una giunta, una determinazione della quale il sindaco afferma di non aver fatto parte. Invece pare che non sia così, perché agli atti iscritti il suo nome risulta. Allora, vorrei fare un accenno prima di tutto a quelle persone che girano per Trasacco facendo vedere un atto di indirizzo dell'aggiunta fatta dall'allora Gino Fosca. Per quanto riguarda il sindaco era presente o non era presente, potrebbe essere anche un fattore anche si può dire relativo in quanto tutto quello che è stato messo sotto inchiesta non riguarda l'appalto della pubblica illuminazione riguarda i mesi successivi all'inizio dei lavori. Quando lui dice che non era presente perché non era presente vuole soltanto ricordare forse sarà stata una dimenticanza o non ha voluto dirlo io lo ringrazio per la trasparenza perché questo è un atto del Comune di Trasacco sulla trasparenza quindi è del Comune di Trasacco quindi tutti quanti possono andare sul sito la delibera è la numero 49 del 28.05.2010 concessione servizio pubblica illuminazione approvazione progetto definitivo e determinazione quindi è l'approvazione del progetto definitivo non è così come l'altra delibera che porta qualche burattino della politica in giro che era un atto di indirizzo era un atto di indirizzo e io vi darei anche chi di competenza di vedere se ci sono le condizioni per seguire a norma di legge queste cose se si possono fare o meno perché questo significa proprio calugnare le persone ma questa era del 28.05.2010 la dottoressa era la Cinzia Caggiani c'è l'immediata eseguibilità la data di inizio della pubblicazione del 3.06.2010 la data di fine pubblicazione del 18.06.2010 quindi questo è un atto pubblico definitivo perché l'approvazione della pubblica illuminazione è un atto definitivo e il nome del sindaco Quaglieri c'è? allora Antonio Ciccarelli presente Mario Colella presente Damiano Ippoliti presente Duilio Brasetti presente Roberto Salvi presente Quaglieri Mario presente quindi il sindaco Gino Fosca il sindaco allora era Gino Fosca Mario Quaglieri aveva la qualifica di vice sindaco e quindi era presente quando è stato dato definitivamente inizio è stato fatto il mandato definitivamente inizio l'approvazione del progetto di illuminazione pubblica concludiamo velocemente recentemente sei stato accusato di un qualcosa che pare non ti riguardi neanche minimamente però l'accusa rimane e rimane anche la ferita e l'amarezza da parte tua vedi quando in 20 anni di onorato impegno con la politica e la disponibilità con tutti i cittadini di Trasacco è normale che un atto un'accusa una calugna un qualche cosa chi fa amministrazione chi fa politico la prende oggi come oggi se io faccio un esempio dico io ti ho dato 100 euro automaticamente entri in un sistema di indagine da parte degli organi competenti non ho mai capito per quale motivo in ogni anno non è che si combatte il sindaco si combatte Roberto Salvi questa è una cosa che io sono onorato di questo perché dico che effettivamente a tutte queste persone che volevano rimettere le mani dentro al comune per poter fare non so che cosa però tutti le conosciamo quindi i cittadini di Trasacco conoscono queste persone io gli do fastidio gli do fastidio perché ogni volta che faccio le mie campagne elettorali la gente mi vota io devo dire una cosa direttore io non so chi mi vota io non li ho schedati i miei elettori e di fatto tutti dicono ma Roberto chi lo vota a me mi votano le persone comune e mio padre mi ha insegnato una cosa ci sono tre motivi per cui una persona ti deve dare il voto ti deve dare il voto perché hai l'educazione prima di tutto perché lo devi aiutare nella vita normale di tutti i giorni e perché forse perché ci sei parente ma è difficile perché parenti oggi nemmeno ti puoi fidare perché tanti parenti l'invidia e compagnia bella si mettono all'altra parte e ti fanno pure campagna elettorale contro di questo ormai ne ho fatto il callo io ci sono abituato mia figlia è orientata ad andare avanti su quello che ho detto e quindi non sarà facile togliermi di mezzo quindi queste persone andrassero in pensione tranquillamente senza stare a pensare che cosa debbano fare dopo l'11 luglio andassero tranquillamente in pensione perché chi decide è il popolo chi decide il voto è libero e chi è il popolo è sovrano non bisogna parlare soltanto del popolo di Tasacco quando si accomoda bisogna parlare con il popolo di Tasacco 365 giorni l'anno e mettersi a loro disposizione e salutarla dalla mattina alla sera io non ho un nemico personale ce ne ho tanti nemici nascosti nell'ombra che cercano solo di fare male ma queste persone sono ricalcate nel tempo sono dei stampi li hanno fatto a me li hanno fatto a me perché ci sono determinate persone che hanno solo campato di politica io non ho campato di politica io ci ho fatto qualche cosa dentro casa mia grazie a mia suocera grazie a mia moglie grazie alla famiglia grazie al lavoro che ho sempre fatto e onestamente e con passione ha toccato a Vezzano la trentesima staffetta della solidarietà dei Bersadieri i 15 podesti che da Albano nel Lazio raggiungeranno Pescara per il 65esimo raduno dei Bersadieri sono stati accolti dal sindaco Giovanni Di Pangrazio della fanfara dei Bersadieri l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale dei Bersadieri presidenza regionale Bruzzo in sinergia con il comune di Avezzano è stato accolto con calore da tante famiglie ha coniugato una raccolta fondi di beneficenza con lo spettacolo emozionante delle musiche offerte dalla fanfara l'ACCAM c'entra di obiettivi e va oltre bilancio positivo e trend in crescita per il sistema di raccolta differenziata nei comuni serviti dall'azienda consorziale marsicana tre comuni virtuosi brillano anche centri della Piana del Cavaliere in cui il servizio è stato inaugurato appena qualche mese fa gli ultimi dati relativi ai primi mesi dell'anno infatti registrano una media del 70% di rifiuti avviati al riciclaggio rispetto a quelli destinati allo smaltimento con punte di eccellenza del 75% nei comuni di Rocca di Botte peretto e lecce inemarsi con il superamento di misura delle percentuali del 65% prevista dalla legge e nessuna criticità negli sant'anni offerta dei dati migliaia di tonnellate di materiali plastica legno carta vetro metalli e sottratti alla discarica avviati a nuova vita con la trasformazione in nuovi beni un risultato straordinario nato dall'impegno congiunto con enti e cittadini cui l'ACCIAM fornisce quotidianamente il decisivo apporto in mezzi personali strutture assistenza soprattutto professionalità competenze una sinergia dunque vincente che fa bene alla collettività e all'ambiente oltre che in prospettiva al risparmio delle famiglie perseguita con tenace e metodo dall'azienda consorziale di gene ambientale marsicana stiamo lavorando a tutto campo per consolidare il ciclo virtuoso e ottimizzare sempre più i servizi si è spiegato la presidente dell'ACCIAM Lorenza Penei risultati premano noi le nostre comunità che rispondono alle attività con impegno e senso civico il nostro sistema include raccolte domiciliari isole ecologiche centri di raccolta rimozione di discariche abusive ma anche punti informativi attività di educazione e sensibilizzazione giornate ecologiche e la costante comunicazione con i cittadini e gli enti così da recepire prontamente le istanze che giungono dal territorio e offrire risposte rapide e adeguate dal 22 al 26 maggio presso il Casalorsini di Avezzano si tratta il festival teatro delle scuole una settimana intensa e fantastica in cui saranno mostrati i lavori finali dei laboratori scolastici di teatro gestiti da Alessia Tabacco e Francesco Sportelli di Il Volo del Coleottero e da Mario Fracassi di Classe Mista al festival hanno aderito classi delle scuole primarie dell'istituto Mazzini Fermi di Avezzano e dell'istituto Sabin di Capistrello il festival è patrocinato dal comune di Avezzano Unicef e Scuola Mica affiancare percorsi didattici tradizionali ai linguaggi propri del teatro e della musica è un modo per scoprire le proprie potenzialità e metterle al servizio del gruppo inoltre permette di sviluppare le accretività e superare le proprie paure e timidezze afferma Francesco Sportelli del Volo del Coleottero nel grande gioco del fare finta di ci si scopre liberi di esprimersi e comunicare rendendo il percorso edificante per sé e per gli altri grazie alla collaborazione della preside Fabiana Iacovitti dirigente scolastico della scuola primaria Mazzini di Avezzano e della preside Francesca Di Tecco dirigente scolastico della scuola primaria Santa Barbara di Capistrello degli insegnanti delle classi coinvolte dei genitori dei piccoli attori che ci hanno accordato la loro fiducia del comune di Avezzano e la persona dell'assessore Fabrizio Mattilli che ha sposato il nostro progetto con entusiasmo e interesse abbiamo potuto dedicare un'intera settimana al mondo della scuola e del teatro al mondo dell'infanzia e della creatività 24 visite altrettante ecografie gratuite spalmate in 4 giorni scandiranno l'azione di prevenzione sulla tiroide messa in campo dall'ospedale di L'Aquila in occasione della settimana mondiale dedicata alla ghiandola lo screening al San Salvatore inizierà lunedì prossimo 22 maggio proseguirà nei giorni 23, 24 e 26 dagli ore 11 alle 13 presso l'unità di endocrinologia al primo piano del San Salvatore il monitoraggio all'insegna della prevenzione avrà un target di utenza preciso perché sarà riservato esclusivamente a coloro che non hanno mai effettuato accertamenti sulla ghiandola l'intento è chiaro esplorare i quote di popolazione potenzialmente a rischio a cominciare dalla familiarità della malattia vale a dire casi registrati nella cerchia di congiunti e controllare chi pur non avendo problemi di salute potrebbe comunque avere patologie silenti dunque allo stato iniziale le avvisaglie della malattia tiroidee dichiara il dottor Paolo Rosati responsabili di endocrinologia dell'ospedale di L'Aquila sono assai sfumate al punto che è difficile riconoscerle i sintomi più frequenti sono aritmie cardiache alterazioni dell'umore a volte disturbi del ciclo mestruale tutte manifestazioni non facili da associare queste problematiche la prevenzione consente di individuare per tempo eventuali anomalie e di curarle in modo adeguato quando la tiroide funziona male provoca ripercussioni su molte funzioni dell'organismo tra cui umore muscoli attività sessuale cuore e bassa di molto la qualità della vita quest'anno non a caso i promotori delle quattro giornate di prevenzione gratuite hanno scelto come titolo tiroide benessere l'investigazione clinica delle giornate di prevenzione in particolare intende sensibilizzare i genitori sulla necessità di sottoporre a controlli i bambini che se non monitorati possono sviluppare patologie negli anni successivi tra l'altro il territorio aquilano ha un'incidenza che si aggira attorno al 50% ben al di sopra della media nazionale attestata al 40% domenica 21 maggio si svolgerà la quinta festa nazionale delle riserve statali festa dedicata al tema degli incontri selvatici la manifestazione denominata riserva amica organizza dall'ufficio territoriale carabinieri per la biodiversità di cassell di sangro regione carabinieri forestali abruzzo si svolgerà anche presso la riserva orientata del montevelino di magdiano de marsi nell'area della riserva magdiano sarà possibile fare passeggiate lungo il sentiero natura di monte lupago partecipare al laboratorio didattici di educazione ed interpretazione ambientale assistere dimostrazione di attività istituzionali a cura dei carabinieri forestali nell'ambito della tutela della fauna selvatica del territorio ascoltare storie di rapaci la conservazione dell'aquila reale e il ritorno del grifone durante la giornata di domenica 21 maggio dedicata proprio alla tutela ed alla conoscenza del nostro territorio si potranno oltre partecipare anche laboratori didattici di educazione ed interpretazione ambientale come tra gli altri il giro tondo nel bosco i profumi della biodiversità e il racconto della natura la festa è aperta a tutti prendere il via dalle ore 9 e terminerà alle ore 17 ad un anno dalla morte del leader radicale Marco Pannella il comune di Teramo sua città natale provincia università regione Abruzzo hanno nominato il primo nucleo del comitato scientifico per lo studio e la valorizzazione della sua reddita intellettuale e politica ne fanno parte l'attivista dei diritti civili Mirella Parachini compagna di Pannella Francesco Benigno professore ordinario di storia moderna Stefano Traini professore ordinario di filosofia e teoria dei linguaggi preside della facoltà di scienze della comunicazione dove insegna semiottica Silvio Araclio fondatore e direttore artistico dell'associazione culturale Spazio 3 già docente di comunicazione teatrale Alessio Falconio direttore di Radio Radicale Pannella decisivo alle mutazioni del paese nel modo di fare politica di comunicare di occuparsi di diritti civili e di giustizia rappresenta perdienti promotori scrivono gli stessi la figura a cui ispirarsi per costruire un progetto che chiami raccolta teramo uomini e donne di diversa ispirazione interpreti di talenti e pensieri contemporanei una manifestazione che dovrebbe avere cadenza annuale e la cui formula sarà oggetto di riflessione proposta da parte del comitato scientifico e questa era l'ultima notizia prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennaduetivo.it o sulla nostra pagina facebook antennadovezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci a presto